Continuano le attività del Comitato per la riattivazione della tratta ferroviaria siciliano Lago Negro, grazie alle quali l'argomento sembra essere tornato d'attualità anche nei consigli comunali del territorio. Sono andate a buon fine nelle ultime settimane le trattative con i comuni di Salvitella, Teggiano e Petina ed i sindaci Nunziata, Di Candi e Zito hanno firmato il documento di intesa per promuovere la riattivazione della tratta ferrata. Intanto continua l'iter per le delibere in altri comuni. Sono imminenti, come dichiarato dagli stessi sindaci, gli atti deliberatori di Buonabitacolo, San Pietro Altanagro, Monte San Giacomo, Casaletto Spartano, Sala Consilina, Atena Lucana, Lago Negro e Lauria. L'obiettivo del Comitato è quello di arrivare entro la fine dell'anno ad avere in mano le carte necessarie per poter affermare che la comunità, i cittadini e le amministrazioni rivolgono la loro ferrovia. C'è poi il capitolo che riguarda le stazioni dismesse. Dopo il bel esempio di Polla, dove la sala d'attesa è stata riaperta al pubblico con gli autobus sostitutivi che fermeranno a partire dal 20 dicembre dinanzi allo scalo, rinato grazie al lavoro della Proloco e reso fruibile per i pendolari che beneficiano degli autobus sostitutivi, il Comitato sta lavorando con gli altri comuni per giungere a risultati simili. Il sindaco di Casalbona, Attilio Romano, ha pubblicato un avviso per chiedere il comodato d'uso gratuito dello stabile locale e il Comitato sta cercando di contattare le associazioni del territorio per interessarle alla questione. Analogo discorso dovrebbe avvenire a Padula, dove il sindaco imparato ha palesato la volontà di togliere dall'incuria la bella e grande stazione locale. Richieste di sopralluogo destinate a rete ferroviarie italiane curate dal Comitato sono state inoltrate ai comuni di Montesano e Atena Lucana.